si, ok ciao a tutti da Salvatore, grandissima sorpresa, grandissimo Vincenzo Salemi ma come grandissima sorpresa, siamo insieme da due ore, come grandissima sorpresa sono Vincenzo Salemi, lui è il salutatore, tanti auguri, già l'abbiamo fatta non è venuta, ma non è come se vi hanno procurato no, 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 no tanti auguri, buon Natale, buon anno, buon tutto ci sto, Salemi ci stai sui social? certo che ci sto si sto, si chiama Vincenzo Salemi in arte uguale non uguale come il soprannome, ma proprio Vincenzo Salemi, va bene? e andiamo a vedere ma tu? di che segno sei? io leone io buco, giuro grande pensate all'orosco vittisa luglio ma tu mi dici credi all'orosco leone e leone e cioè, dov'è la... e guardate, ti do un cd per lavorare come attore del prossimo tuo film vediamo se l'orosco ci aiuterà a questo voleva male fare ce n'avevo uno notato a te il salutatore nel prossimo film di Vincenzo Salemi su tutti gli schemi magari, un sogno grazie, ciao e il video? il video lo sto qua è vero portano a casa papi